Combattere i mercanti di morte, il monito dell'arcivescovo Tommaso Valentinetti risuona anche il giorno dopo l'addio a Christopher Thomas Luciani. La droga, piaga che aggrava il disagio giovanile e che produce violenza inaudita. Occorre distinguere gli amici dai compagni di merende, l'indicazione questa del sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia. E questi obiettivi sono anche alla base delle indagini che la squadra mobile di Pescara sta compiendo sull'atroce delitto di cui è stato vittima Christopher. Le immagini delle telecamere e della videosorveglianza vengono analizzate fotogramma per fotogramma in queste ore. Ma i rilievi si stanno concentrando anche sugli smartphone dei due sedicenni indagati e ristretti nei centri per minori di Bari e Roma e sugli altri dei cinque del gruppo di amici. Lunedì ci sarà un nuovo confronto con i legali. Ciò che si sa, come trascritto dal GIP nella sua ordinanza ed emerso dalla ricostruzione della polizia, è l'estrema crudeltà con cui il sedicenne è stato ammazzato con 25 coltellate. Non è stata trovata l'arma, un coltello da sub gettato in mare, avvolto in un calzino, dai ragazzini dopo le battute ironiche, da come sembra, su quanto avevano compiuto. C'è il giallo di una pistola che avrebbe mostrato uno dei due fermati, ne parla il ragazzino che, confessando al padre colonnello dei carabinieri l'accaduto, ha fatto scattare l'allarme. Ma ci si interroga anche sulla maglietta nera che uno dei due presunti aggressori, domenica 23 giugno, al momento dell'ingresso nel parco Baden-Powell, cioè quando tutti insieme, anche Thomas, sono entrati nell'area verde dei pressi della stazione di Pescara, aveva indosso. All'uscita, dopo mezz'ora, Christopher non c'era, vittima del massacro, e il presunto assassino non aveva più indosso quella maglietta, ma altri abiti. L'indumento è stato sequestrato dai poliziotti a casa della nonna del ragazzo, in un paese vicino Pescara, e non nella sua abitazione, dove, in un primo sopralluogo, era stata notata dagli inquirenti la cesta dei panni piena. Grazie.